Si chiama Neville Linton, è un uomo di 63 anni di età, aveva lasciato la verdura nel suo frigorifero per ben tre giorni dopo la spesa, ma ha scoperto che aprendo la bussa di broccoli, dentro c'era un serpente, un animale selvatico, esotico, così viene chiamato. Gli serpenti si aggiravano nel futuro pasto che lui doveva andare a consumare, spaventando dalla vista di quel grosso serpente, così proprio Neville ha deciso di chiamare i parenti per avere del supporto, dell'aiuto e ha chiesto poi al negozio di alimentari un grosso risarcimento. Ha comprato i broccoli, tre giorni sono rimasti fuori, la scoperta l'ha letteralmente scioccato, il teatro di questa vicenda, Storbridge, ci troviamo in Inghilterra, dopo ha notato la grossa creatura occulta nel gambo dei broccoli, scartando la verdura, si è accorto tutto questo. Vi ringrazio per l'ascolto, ha chiamato poi la sorella Anne-Marie Tenkanemim di 53 anni di età, che ha riconosciuto l'animale in un serpente, un animale esotico, selvatico. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, il video termine, ecco a ciò dal narratore italiano di YouTube Italia.